Ok ragazzi, benvenuti alla quarta parte di Super Mario World. Allora, non ho rispettato le cose che ho detto nella fine della parte precedente, allora in cui ho detto che mi sarei riposato, più che altro avrei riposato la voce, non l'ho fatto, e quindi continuo a registrare lo stesso giorno, quindi questa è la quarta parte che registro nello stesso giorno, però riesco a portarmi un po' avanti col lavoro, perché poi so già che rischio di lasciare i progetti a metà. Allora, se mi porto avanti un po' adesso col lavoro, siccome ho anche tanto da fare con Fire la Fantasy IX, sarà tutto lì guadagnato, no? Giustamente. Ok, stiamo attenti a questi Twomp. Dovevo chiamarsi Twomp, giusto? Sì, mi pare di sì. Ok, dobbiamo andare a sconfiggere Morton Koopa. Ok, qua purtroppo dobbiamo... A meno che non vogliamo sfruttare la velocità aggiuntiva dell'emulatore, dovremmo per forza aspettare i tempi dei blocchi. Perfetto, là sono semplicemente delle monete. Ok, qua miseria. Ok, qua miseria. Ok, tucca la repa. Ok. Occhio qua. Ok, qui... Semplicemente stare attenti in questo livello, non è difficilissimo, bisogna semplicemente stare attenti a non farsi comprimere da questi blocchi di pietra. E finalmente il rischio è molto accentuato, lo posso assicurare. Ok. Prendiamo anche questa, non ci serve, ma la prendiamo lo stesso. Yeah. E andiamo ad affrontare Morton Koopa. Vieni qua Morton Koopa. Yes. Prima che tu arrivi lì, io devo farti fuori, bastardo. Se no si sarebbe arrampicato sul muro e si sarebbe buttato a panciata per farci fuori. Non sarebbe stato il nostro problema, però è meglio farlo fuori con i tempi ragionevoli e senza correre troppi rischi. E quindi mi è finito anche il secondo mondo. Giusto? Yes. Thank you. Grandissimo. Morton Koopa Junior of Castle Chew is now just a memory. La prossima area è Vanilla Dom. Quali trappole aspetteranno a stare in attesa di Mario in questo nuovo mondo? Niente. Speriamo non minacce troppo esagerate. Quindi si apre la porta. Andiamo in Vanilla Dom. Continue e save. Allora, qua ci sono un sacco di passaggi segreti. Vediamo se me li ricordo, eh. Adesso andiamo un po' così a memoria. Ah, ecco. Con questo... Con Yoshi forse riusciamo già subito a fare un passaggio segreto che non potremo prendere diversamente. Vediamo un po', eh. Questa un attimo. Prima liberiamoci la strada qua. Ok. Andiamo a prendere... No. Questo. Teniamolo in bocca. Ok. Facciamo qua. e andiamo a trovare subito un'area segreta che avremmo potuto attivare. Avete visto, c'erano i blocchi quelli rosa, rossi, insomma. Avremmo dovuto sbloccare prima quell'interruttore, cosa che ancora non abbiamo fatto, perché dovremmo farlo più in questo mondo. E qui andiamo in Vanilla Secret One. E vai. Qua di nuovo parte dedicata ai segreti. E chissà se... Chissà se riesco a non morire, innanzitutto. E chissà se questi sono anche dei passaggi segreti. Non mi ricordo, sinceramente. Non mi sovviene. Aspetta un attimo. Facciamo una cosa. Ok, aspetta un attimo. Non so se diva. La miseria. Ok. Morito tutti. Malamente anche. Forse dobbiamo abbandonare Yoshi? Eh sì, mi sa di sì. Purtroppo dobbiamo lasciarlo da parte un attimino. Ma tanto poi abbiamo già il nostro punto di riferimento per andarlo a trovare di nuovo, quindi non c'è problema. No. Per forza... Sì, per forza così dobbiamo fare. O no. Dubbio a Mletico. Aspetta, magari si può passare dall'altra parte. No. Non si può passare da nessuna parte. Quindi per forza andare su di qua. Peccato. Mi scorcio a lasciare Yoshi, però. Ci tocca farlo. E quindi si fa. Si fa quello che bisogna fare. Ok. Qua. Ok, il tempismo. Ok. Perfetto. Qui cosa c'è? Poi è casinato sto livello, eh. Ah, qua c'è l'uscita quella, forse quella regolare. Aspetta, vediamo se di qua c'è qualcosa. Vediamo un po' se di qua c'è qualcosa. Sì, sono il Dragon Coin. L'abbiamo lasciato una indietro, ma non importa. Però magari questa qua la prendiamo, visto che... Visto che non ci arriviamo neanche a prenderla. Perfetto. Allora andiamo. Usciamo normalmente. E beh? Beh? Boh. Ho impazzito il gioco. Aspettate un attimo. Ok, vediamo un po' se riusciamo a ripristinare il continuo spazzo-tempo. Ok, non mi saliva la scarmata. Perfetto. Stavo rischiando di finire a livello... Cioè, di finire i secondi del livello. È fantastico. Yes! Ehm... Sì, abbiamo dovuto forse abbandonare Yoshi. Però mi chiedo se non ci fosse qualche altro modo per arrivarci. Mmm... Con Yoshi, sì. Boh. Comunque, poco male. Adesso andremo a vedere dove ci porta questo tubo. Ci porta nella Vanilla Secret Chew. Dopo andiamo di nuovo a prenderci Yoshi. Oh, cazzo. Eh, questo livello qua è strapieno di... Ah, no, lo prendiamo qua, Yoshi. Fantastico. Eh, no. Eh, no. Non ci cagate il cazzo. Nooo. Eh, è difficile sto pezzo, perché sono un sacco di Yoshi... Di... 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 Di Koopa. Oh, caputana. Per la miseria. No. Oh, caputana miseria. Ok. Ok. Ok, metà livello l'abbiamo preso. Molto, molto difficile questo livello. Lo posso assicurare. Qua c'è una piuma. Potremmo anche prena, ma chi se ne frega. Anzi, la prendiamo per forza, perché... Ci finiamo addosso. Qua c'è una Dragon Coin? No. Sì. Vabbè, ce ne frega. Lasciamo pure così. Yes! E abbiamo finito anche questo livello. A quanto siamo? 8 minuti o qualcosa. Va bene, va bene. Wow, wow. Ok. Abbiamo finito anche questo. E dove ci porta questo in un altro livello? Vanilla Seeker 3. E poi è una fortezza. Fantastico. Sono gli ogli segreti in questa parte, praticamente. Ok. Qua cerchiamo di sfruttare le nostre potenzialità. Ah, bravo, credeteno. Ok. Qua prendiamo la rincorsa. Potremmo anche sfruttarlo ancora un pochino. Hanno preso la metà del livello. Fantastico. Ok. Ok. Ci siamo... Abbiamo evitato che ci fosse quella spugna, quella meridaccia di sotto che ci colpesse. Ce lo siamo evitati per un pelo. 30 stelle finali. 30 stelle finali, giusto per tenere in bellezza. Friuli è andato abbastanza, abbastanza liscio, eh. Wow, wow. ha 56 vite, ha un sacco di vite, è un sacco di vite, è fantastico. Tanto in questo gioco mi pare che si possa arrivare fino a 999 vite, se non sbaglio. Vanilla Fortress. E quindi andiamo a fare questo adesso. E quindi andiamo a fare questo adesso. Ottimo. Ehm... Chi se la ricorda? Oddio no! Oddio no! Non ci voleva questo lì in questo momento, perché... Oppure di non farcela. Fantastico! Complimenti! Ok, piano piano. Ma perché non li col... Cioè sono nella merda praticamente. Avevo due... Avevo due piume e sono riuscito a fottermi, tipo nel raggio di 10 metri. Oddio! Oddio santo! Questo punto... Da fuori di testa questo punto. Eh, vaffanculo, minchia, ce l'ho fatta superare al fine... Adesso... Per la miseria. E qua è meglio andare a rischiare. Andiamo avanti, va. Oddio santo! Questo pezzo. C'è il tuompo incazzato. Dimmi che trovo qualcosa. Aspettiamo un attimo. Oddio! Ma, eh... Qua... Ti può darmi un... Fugo? Qualcosa... Sarebbe chiedere troppo? Oh, Gesù, bambino. Ok. E... Mi sa che ho raggiunto il punto di prima, semplicemente. Quindi... Andiamo avanti. Cerchiamo di tenere questo potenziamento almeno per un pochino, perché sennò siamo veramente nella cacca. Ma di quella proprio... Tipo... Tipo di arrea fumante. Quindi cerchiamo di fare le brave persone, dirigenti. Sennò... 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 Sennò attenti. Oh, Gesù, bambino! No, cazzo! Oh, miseriaccia! Ne ho un pochissimo tempo, dobbiamo anche affrontare... No! Cazzo! No! 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 Mi sono schiantato, puttana merda! Mi sono schiantato, Dio, bass... Divento l'orto, maledetto, maledetto! Minchia di un mostro pezzo, mi devo fare... No! Oh, no! Lo devo rivare! Mannaglia! Di quella zozza, mignotta! Passiamo qua sotto. Vai, emulatore. Fai il tuo compito, perfetto. Se sono minuscolo, approfittiamo di questo tubo. Vediamo dove ci porta. Ma lei ci fa saltare un pezzettino. Aspettare no, era troppo facile. Poi magari uno dice, ma lei si stufa, no? Aspettare quattro secondi, cagati, magari uno si stufa, giustamente. Allora, meglio morire subito. Ah, tanto io c'ho un... Lassù c'ho... Un fungo, però non lo usiamo. Passiamo di nuovo di qua. Vabbè, emulatore, fammi correre, grandissimo. Tra l'altro mi stavo schiantando, sfruttando questa peculiarità dell'emulatore. Ok. Conviene magari aspettare. Che dite? Sì, aspettiamo, aspettiamo. Ah, ci ha fatto saltare un pezzettino, va bene. Eh, Cristo però! Ma Cristo! Santissimo! Dai! Minchia, ma ce la facciamo! Va bene che non è facile, effettivamente, però... E dai, su! Su via! Eh, cos'è la salito il giorno qua, adesso? Boh, andiamo di qua. Potranno passare di sotto e semplificarci un po' la vita, ma io me la voglio rendere ancora più difficile. Siccome già non è abbastanza difficile, no? Questo... Oh! Tanto, tanto, cazzo, è che dura la sua pezza. Yes! Oddio! Non è per niente... Ve lo posso sicurare che non è per niente facile. Ma proprio un cazzo di niente. Ok. Cerchiamo di finire questo castello maledetto. Tanto, dopo facciamo un bel save state, quando arriviamo lì in quel... da quei tizi, salviamo, veloce, perché... Ho la voglia di rifare tutto, e... rasenta lo zero, se non addirittura inferiore. Insomma, evitiamo. Qua non ci serve. Facciamo un save state, qua, veloce. Ok. E adesso... Finiamo solo di fare il giro. Sì, finiamo solo di fare il giro il cazzo. Ok. Cazzarola. Volevi fotte, il mio maledetto. Ma la mia prima che mi fotte ci va un attimo. Parole buttate all'aria. E quindi, niente, abbiamo finito questo. Io questa parte la farei quasi finire qui. Non le voglio fare troppo lunghe. Sono già quelli di fare la panza di nove, che durano un'eternità. E qua andiamo... Ci colleghiamo... Ah, Battle Bridge. Continua in sé. No, ci colleghiamo a quarto mondo. No, no, è troppo, troppo. Niente, facciamo una cosa. Questa parte finiamola appunto qui. Noi ci vediamo alla prossima parte. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Questa parte è stata un po' più incasenata del solito. Però, insomma, ogni tanto giustamente ci vuole. Perché stiamo giocando un Super Mario, tutto uno dei più difficili. Quindi, insomma, questo è. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento. Un bel mi piace, una condivisione se vi va. E noi ci vediamo alla prossima parte di gameplay. Ciao, ciao ragazzi.